Non solo traffico e disagi per la circolazione, le manifestazioni che da 13 sabato di fila occupano le vie del centro con le proteste di chi è contrario al Green Pass creano infatti numerosi problemi anche ai commercianti che lavorano nelle vie del centro interessate dal percorso dei manifestanti. Durante infatti queste proteste le zone centrali si svuotano nel giorno più importante della settimana per quanto riguarda gli incassi compromettendo il fatturato per negozi e ristoranti con perdite di circa il 20-25% in una sola giornata. Premesso ovviamente il sacro santo diritto a manifestare e quindi a organizzare manifestazioni e ci mancherebbe altro che si contestasse questo aspetto, purtroppo il problema è creato dalle modalità di svolgimento delle manifestazioni, il fatto che siano organizzate senza certi tipi di preavviso e senza comunicare alla questura le modalità di svolgimento, quindi l'iter della manifestazione con conseguenti poi blocchi del traffico crea le nostre attività economiche un danno economico rilevante. Prima di tutto perché si svolgono quasi sempre durante la giornata del sabato che è la migliore giornata dal punto di vista lavorativo e degli incassi. In secondo luogo perché confluiscono sempre poi in centro che è la nostra zona ovviamente di competenza, quindi si vede proprio a un certo punto della manifestazione l'arrestarsi quasi completo del flusso pedonale che potrebbe raggiungere i nostri locali. Per i ristoranti nelle vie centrali il disagio maggiore avviene quando le manifestazioni si svolgono nel tardo pomeriggio fino a sera inoltrata compromettendo così l'orario dell'aperitivo e della cena. Diciamo che in alcuni casi si sono verificate nel pomeriggio e quelle hanno sì creato un danno economico ma non andando a toccare la cena il danno economico è stato un pochino più modesto. Invece le ultime settimane si sono svolte toccando sicuramente l'orario dell'aperitivo e in alcuni casi anche andando a decidere sulla cena e allora il danno economico in quel caso è rilevante. Oltre alla paura di molte persone che ormai il sabato sapendo delle possibili manifestazioni che spesso degenerano anche in atti di violenza preferiscono tenersi lontane dal centro, si aggiunge anche la difficoltà di raggiungere le vie centrali a causa di ingorghi, traffico e strade chiuse per far passare i manifestanti facendo saltare per i ristoranti numerose prenotazioni. E' proprio la difficoltà a raggiungere determinati punti del centro, quindi abbiamo avuto anche in queste settimane, abbiamo avuto il sabato, diverse persone che o cancellavano la prenotazione perché si accorgevano di essere rimasti imbottigliati nel traffico o arrivavano con un'ora o più di ritardo rispetto alla prenotazione.